Un patrimonio di tradizioni e luoghi gloriosi dal Mercadante a San Ferdinando ed un'eredità materiale ed immateriale che ha pochi uguali al mondo. Ieri sera al Teatro Mercadante il festeggiamento pubblico per celebrare i dieci anni di attività del Teatro Stabile di Napoli. Un decennio di produzioni raccolto anche in una pubblicazione in cui il racconto è narrato da molti dei tantissimi protagonisti ma anche dagli spettatori. È stata però anche l'occasione adatta per sollevare l'attenzione sul prossimo impegno, già imminente, quello di riuscire ad entrare nel ristrettissimo numero dei teatri nazionali previsti dalle riforma della legge cosiddetta valore cultura, che prevede una serie di requisiti per entrare nell'elite della scena italiana e che ad oggi vede la presenza certa degli stabili di Torino, Milano, Genova e Roma. Entro il prossimo 15 gennaio si dovrà dimostrare al Ministero di possedere requisiti come longevità, capienza delle sale, numero di repliche e produzioni, oltre alla presenza di una scuola di alta formazione teatrale che è già in progetto per il San Ferdinando. L'assessore alla cultura del comune di Napoli, Nino Daniele, nel corso della serata ha ricordato che Napoli è una città geneticamente drammaturgica ed è già nel nome capitale di un teatro nazionale e sarebbe pertanto davvero inconcepibile che la città più teatrale d'Italia per tradizioni antiche e capacità di innovazione non si proclamasse teatro nazionale.